Gary Duffin, so che non è il tuo primo interrogatorio, ma stavolta sarà diverso. Stavolta non verrai rilasciato fin quando non darai delle risposte. E se non lo facessi? Eri all'autodemolizione quando è arrivato quel SUV. Chi c'era nell'auto? Sa una cosa. Voglio un avvocato. Sei solo un delinquente qualunque. Non sei un genio del crimine, quindi comincia a parlare. Dimmi, chi c'era nell'auto? Chi ti ha chiesto di distruggerla? C'era quest'uomo nell'auto? Parla! C'era lui nell'auto ed era ancora vivo! Così mi rompe il dito! E dopo avrai altre nove dita da rompere. Ti conviene rispondere alle mie domande. Forza! Parla! Non ho niente da dire! Dimmi, che c'è? La scientifica ha esaminato il SUV. Niente sangue o tessuti umani. Castle non era là dentro. Ok. Allora è ancora vivo. Quindi hanno fatto distruggere il SUV per coprire le prove. Cercate tracce di DNA impronte nell'auto. E voglio trattenere Daphne in una cella. E poi cosa gli farai? Ti ho vista prima. Ricorrere alla violenza non serve assolutamente a nulla. Ma Daphne sa chi ha rapito Castle! Sai bene che non confesserà mai. Ha molta più paura di loro che di te. Va bene. Useremo un'altra tattica. Per ora.